Non è famoso come il cammino di Santiago de Compostela, però questo cammino tutto abruzzese di fede e di speranza ha già tanti proseliti. Sì, sì, decisamente sì, ed è partito bene con tante persone del luogo, anche se la nostra aspirazione in realtà è quella di attirare pellegrini da tutta Europa, perché il fenomeno dei pellegrinaggi è un fenomeno che va a toccare particolarmente il nord Europa, famosissimo infatti Santiago de Compostela. Noi siamo piccoli, ma abbiamo la possibilità, abbiamo le risorse religiose, le risorse territoriali per potersi inserire bene. Partiti da Giulianova, arriverete al santuario di San Gabriele dell'Addolorata, di Isola del Gran Sasso, in quanti giorni? Quattro giorni e una notte. A Giulianova viene dato dal rettore della confraternità di Santiago di Compostela quello che è lo status di pellegrino, perché non dimentichiamoci anche l'aspetto religioso della questione, e i frati passionisti alla fine daranno, riconosciuto dalla Santa Sede, il diploma di avvenuto pellegrinaggio, perché per essere pellegrinaggio deve passare i 100 chilometri, per cui ci siamo direttamente. Un percorso di fede, ma anche di preghiera soprattutto? Un percorso di fede, di preghiera, di respiro del territorio, di modo di avvicinarsi al territorio che ne consente di respirare la profonda essenza ancestrale, quasi che si potesse interiorizzare quel calidoscopio di sensazioni che la nostra magnifica terra è in grado di dare, e ognuna di esse è un tesoro rispetto a quello che noi possiamo pensare per i pellegrini. Oltre al santuario della Madonna dello Splendore e del santuario di San Gabriele, quali altre chiese verranno toccate? Allora, la Santa Maria Vico, che è la più antica chiesa d'Abruzzo, importantissima, il santuario della Santa Maria dei Lumi a Civitella, con le varie chiese di Civitella, il Duomo di Campli con la Scala Santa di Campli, chiaramente la Cattedrale di Teramo per arrivare infine a quello che è il santuario abruzzese per eccellenza, che è San Gabriele. Grazie.